Presentato il nuovo gruppo consigliare all'interno del Consiglio Comunale della Spezia, vince Liguria la Spezia Udc, che come ha dichiarato Loris Figoli, coordinatore della lista, nasce da uno scenario nuovo scaturito dagli esiti delle elezioni regionali. Un richiamo ai valori della democrazia cristiana è quindi giunto da Francesco Ponzanelli, rappresentante dell'Udc, per un progetto che tende al futuro e che ha come fulcro i cittadini e i loro bisogni. Per Gabriella Crovara, che ricopre anche il ruolo di consigliere provinciale, per la prima volta sul territorio si presenta un gruppo di centro in grado di cogliere la realtà quotidiana delle persone. È la prima volta che aderisco a un partito, un partito centrista, un partito che si prefigge di lavorare per i cittadini, di continuare a lavorare, perché io ho sempre lavorato per i cittadini e quindi si porterà avanti insieme al mio capogruppo che sarà Oscar Teia, del quale ringrazio, ringrazio il coordinatore dell'Udc, Ponzanelli, per avermi dato questa possibilità e quindi saremo sul territorio e continueremo a lavorare. Capogruppo della nuova formazione consigliare sarà Oscar Teia, un progetto ha detto che tra l'istabucci Udc rappresenta il 20% della coalizione di centrodestra. È un bel momento anche di riflessione dopo queste elezioni, di ripartenza sui temi che abbiamo sempre a cuore, sulla sanità, sul sociale, sul lavoro e come capogruppo do anche il benvenuto qua nel mio gruppo a Gabriella Crovara con cui abbiamo condiviso fino ad ora due anni di consiglio comunale. Presente Giacomo Gianpedrone, assessore in pectore anche nella nuova giunta regionale, è stata ribadita un'unità di intenti condivisa dall'assessore Emanuela Gagliardi che auspica che da questa unione possano nascere buoni frutti per il futuro della città.